Ciao a tutti sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video Questo è un video fuori programma, sono in vacanza, sono in hotel in questo momento Però lo stesso voglio aggiornarvi perché Crypto.com ha fatto dei cambiamenti per quanto riguarda le carte So che in tanti le utilizzano e per questo motivo ci tengo tantissimo ad aggiornarvi Quindi ragazzi lasciate un mi piace per lo sforzo, per il mio sforzo E se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 sul mondo crypto iscrivetevi assolutamente al canale Cosa importantissima ragazzi, andiamo subito a vedere i cambiamenti che ci sono stati per quanto riguarda le carte di Crypto.com Ho letto questo post tramite Twitter sull'account di WatcherGuru che ha ricondiviso il post ufficiale di Crypto.com E andando sull'account ufficiale di Crypto.com vediamo questo annuncio esattamente il 23 luglio alle ore 4 italiane In questo momento che sto registrando il prezzo di CRO sta crollando davvero, questo qui è il grafico orario E all'incirca dall'ora di pranzo il prezzo sta registrando un downtrend molto marcato In questo video voglio anche farvi capire dove possiamo andare con il prezzo Perché ho semplicemente tracciato questa trendline che ci portiamo avanti ormai da inizio giugno Il prezzo più volte ha rimbalzato su questo supporto E in questo momento mi aspetto che il prezzo possa benissimamente ritornare ad esempio sui 0.11, 0.10 Questa scusatemi potrebbe essere un'ottima occasione per chi volesse aprire una posizione long Nel caso in cui il prezzo tornasse sui 0.11, 0.10 sarei pronto ad aprire una posizione long Perché potremmo vedere un rimbalzo Però in questo video ragazzi non voglio parlarvi di trading bensì degli aggiornamenti Se cliccate sull'articolo nel caso lascio qui in basso un'escrizione così gli date un'occhiata velocemente Vediamo subito che Crypto.com da diversi mesi sta facendo tantissimi cambiamenti Soprattutto per quanto riguarda le rewards Quindi prima era la carta più utilizzata nel mondo crypto Si è creata tantissima FOMO perché c'erano degli interessi incredibili ragazzi Parliamoci chiaro Però in questo momento non lo è più E infatti sono stati fatti i cambiamenti per quanto riguarda i benefit di Netflix e Spotify Perché ascoltate bene Gli utenti di carte Jade Green, Royal Indigo e Ruby Steel Che hanno attivato la carta prima del 23 luglio Beneficeranno dei vantaggi di sconto commerciale per quanto riguarda Spotify e Netflix Però questo per altri 6 mesi cioè fino a gennaio 2023 Successivamente attenzione i titolari di carta non riceveranno rimborsi cro Quando spendono con questi commercianti cioè Spotify e Netflix Invece i titolari di carta riceveranno fino al 2% di rimborso Quando spendono con questi commercianti a seconda dal livello della loro carta Questo è un po' l'annuncio diciamo importante Per questo vediamo questo down del prezzo ragazzi Questo qui ripeto è il grafico giornaliero E sono molto sconcertato soprattutto dai commenti delle persone Sull'account ufficiali di Crypto.com E purtroppo è brutto dirlo Però ci sta che le persone comunque si allontanino dall'exchange Perché se vengono meno i benefit delle carte Ovviamente le persone sono deluse E quello che fanno sarà altri servizi Infatti ad esempio leggiamo questo commento di Franz Sammel Che dopo questi aggiornamenti Dopo gli aggiornamenti passati e dopo anche questi aggiornamenti La carta di Crypto.com per lui non ha senso Ha venduto i cro e adesso passa ad altri servizi Quindi questo è un po' quello che sta succedendo Con purtroppo con l'exchange Stanno puntando molto tutto sulla chrono chain per la DeFi Però è un peccato perdere questi clienti in questo modo Perché il prezzo comunque ne risente Abbiamo avuto questo pump grazie a questo periodo positivo per Ethereum Eccetera Però ragazzi vediamo questo down del prezzo E vi ripeto per me secondo questa trend line Potremmo raggiungere di nuovo i 0.1, i 0.10 per Crypto.com E se rompessimo anche questa il prossimo target sono i 0.08 Già ne ho parlato spesso E anche lì potrebbe essere un buon momento per accumulare per il lungo termine Detto questo ragazzi Nel caso ripeto vi lascio l'articolo Qui in basso in descrizione il link Se cliccate vi leggete tutto con calma E ci sono anche altre novità meno importanti Però la più importante di cui volevo parlarvi Non scocciarvi È questa qui che verranno meno Spotify e Netflix Che è una funzione un po' amata da tutti Che ha permesso anche di far conoscere Crypto.com nel mondo si può dire In oltre 60 paesi che non sono per niente pochi Detto questo ragazzi Grazie mille a tutti per la visione di questo video Se vi è piaciuto Se apprezzate il mio sforzo di farvi questi contenuti Anche quando sono in vacanza Lasciate un mi piace per supportarmi Se non siete iscritti Per rimanere aggiornati 24 ore su 24 Iscrivetevi assolutamente al canale Noi ci vediamo presto con la prossima avventura Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti